Due imbarcazioni della Guardia Costiera Keniana hanno circondato la barca su cui si trovava una turista francese rapita questa notte sull'isola di Manda, nell'arcipelago turistico di Lamu. Il ministero degli esteri francese non ha rivelato l'identità della donna, che è su una sedia a rotelle, e ha detto che con molta probabilità i sequestratori sono arrivati dalla Somalia. Proprio nel paese si sarebbero diretti i banditi che, una volta circondati, hanno sparato in aria per allontanare la Guardia Costiera. Solo un mese fa una coppia britannica è stata attaccata a Kiwaiu, a nord dell'arcipelago di Lamu. L'uomo è stato ucciso, mentre la donna è scomparsa dopo essere stata condotta in Somalia. Fonti diplomatiche sottolineano come i pirati stiano scegliendo stagi più facili come i turisti, dopo il rafforzamento delle misure di sicurezza delle navi mercantili.